Ora andiamo a vedere il capitolo numero 6 del 20 ottobre 1932. Invocazione Tu magna, infinita presenza, creatrice di tutto ciò che è, sempre maestosa nella tua presenza vittoriosa, diamo potere solo a te. Noi per sempre togliamo tutto il potere che abbiamo dato alle cose esterne e restituiamo sereni nella tua maestosa presenza, amore, saggezza e potere. Conoscendo ciò, io sono qui ed io sono lì ed io sono ovunque, dunque io sono sereno nella maestosa presenza, manifestando il tuo amore, saggezza, potere e giustizia. Poiché io ho la tua prudenza e vedo lontano, oltre le possibilità umane, Lodo e ringrazio che io, ora e per sempre, riconosco e accetto soltanto la tua magna vittoriosa presenza in tutte le cose, nella mia vita, nella mia mente e nel mio corpo. Io elogio il fatto di aver collocato attorno a ogni forma il tuo cerchio magico, invisibile e impenetrabile, a tutto ciò che sia diverso da te. Io rimango vigile sulla mia vita, sul mio corpo, sulla mia mente, sul mio mondo e sui miei affari, affinché nulla diverso da te si manifesti. Ti ringrazio. E ora andiamo a vedere il discorso. Ricorda costantemente che la tua coscienza esteriore, che quando tu dici io sono, pensando al potere infinito di Dio, hai messo in funzione quel potere, per compiere con successo l'idea che hai scelto nella tua coscienza, o qualsiasi idea su cui dirigi la tua attenzione. Gli studenti sinceri non dovrebbero dimenticare questo nemmeno per un attimo, finché la verità si radichi e agisca automaticamente. Vedrai, dunque, quanto è ridicolo dire sono malato, sono economicamente in difficoltà. Quando sembra mancare qualcosa, io ti dico che è impossibile che tu abbia degli insuccessi se ti mantieni fedele all'idea che è stata appena esposta. Usala. Quando hai catturato non c'è bisogno che io ti dica che devi usare un fazzoletto. Allora perché hai bisogno che ti ricordino che l'attività esteriore ha solo un potere che le permette di muoversi e che è la presenza io sono? Dio è in te. Ciò che non va negli studenti sinceri è che non meditano spesso sufficientemente su questa verità affinché la loro meravigliosa presenza entri in attività. Per esempio, se tu dici io sono la maestosa e vittoriosa presenza che riempie tutti gli incarichi ufficiali e lo fai con certezza nella tua mente, ti renderai conto quanto sarai benedetto per averlo fatto. Cura i tuoi contatti esteriori costantemente per non accettare per ignoranza l'apparenza delle cose e la paura dei traccoli finanziari. Dio governa il tuo mondo, la tua casa, i tuoi affari e questo è tutto ciò che ti interessa. Non devi mai credere che stai permettendo all'immaginazione di essere fervida solo perché tu senti la vicinanza e la grande presenza individualizzata. Rallegrati di ciò. Credi in questa gran presenza che mantiene in te tutto ciò che tu possa desiderare o usare. Tu non dipendi dalle cose esteriori. Praticando questo magno potere e questa presenza che contiene tutto, non vedi che se anche tutti i beni finissero, tu ne saresti sempre provisto. Io voglio che tu senta che tu accetti gioioso e che con tutto il tuo essere tu conosca che il potere della partecipazione non è un mito, è reale. Quelli che entrano in questo sentimento con sufficiente profondità avranno la precipitazione di tutto ciò che desiderano. Ci sono bambini che sono stati puniti per aver visto esseri angelici e per aver manifestato di avere una percezione interiore. Sono i genitori di questi bambini quelli che dovrebbero essere puniti per aver osato interferire nel donno divino della libertà del bambino. Se gli adulti vivessero di più nell'immaginazione cosciente e nell'accettazione della gran presenza della cui esistenza dubita l'umanità, sentirebbero quella presenza che li eleva e dà loro intelligenza. Mio amato, se all'improvviso senti di aver bisogno di forza o di coraggio, esprimi. Io sono qui, sorgendo e supplendo istantaneamente. Se necessiti armonia mentale o corporale, io sono lì, compensandoti istantaneamente e non hai bisogno di aspettare. Non rivolgere la tua attenzione al mondo o agli individui che non capiscono queste cose. Continua gioendo nella presenza attiva, visibile di ciò che tu desideri manifestare e vedere precipitato nella tua vita e per il tuo uso. Io sono la presenza attiva e visibile di questo che io desidero, oramai manifestato. Il nostro senso comune deve dirci, salvo che noi aspettiamo, accettiamo e godiamo già di ciò che desideriamo, come lo riusciamo ad ottenere. Il povero e insignificante essere esteriore si vanta dicendo Io sono troppo importante per fare attenzione a simili racconti di fatte. Permettimi quindi di informarti che un giorno gli individui che parlano così saranno felici con questi racconti di fatte e riempiranno le loro menti con quelle idee per vederle sorgere. A ogni contatto con il mondo esteriore, degli affari, ogni volta che ci sia una condizione negativa che sembri toccare il tuo mondo, quando istantaneamente prendi questa determinazione. Io sono la precipitazione, la presenza visibile di qualsiasi cosa che io desideri e non c'è uomo né cosa che possa interferire con quello. Quando io parlo di partecipazione non solo mi riferisco all'apertura dei canali invisibili, ma a qualsiasi canale, poiché tutto è precipitazione, ciò che è creato è quello che non è ancora creato e c'è solo una piccola differenza d'attività. Quando io conosco che io sono, sono entrato nel gran silenzio dove c'è la più grande attività di Dio. Questo riconoscimento deve portare grandi rivelazioni all'individuo se lui accetta questo gioiosamente. Nella tua esperienza esteriore, la pratica di qualsiasi attività sviluppa sempre di più la tua efficacia in esso. Vero? Se si può applicare questo a un'attività esteriore, non vedi quanto più importante lui è per un'attività interiore? Quanto più la usi, maggiore potere manifesterai. Tu sai che puoi farlo, con le cose spirituali, in un modo più grande e rapido che non quello esteriore, poiché nello spirito il potere agisce istantaneamente. Non c'è attesa quando gli io sono agisce. Il fatto che la muscolatura si sviluppi con l'esercizio ti dovrebbe far capire che lo stesso sforzo da parte del potere interiore deve produrre ovviamente migliori risultati. Per esempio, gli uomini credono che debbano fare esercizi fisici per sviluppare i muscoli. Io, dunque, ho fatto molte volte in modo che i miei studenti sviluppassero un corpo bello e simetrico, con muscoli potenti, senza aver fatto un solo esercizio fisico. Lo stesso è con l'esercizio delle tue facoltà interne per attivare il potere interiore. In ogni sviluppo, tanto dall'esteriore quanto dell'interiore, la prima parte dell'esercizio è mentale. Dobbiamo sapere che ci sono un solo potere e una sola energia che vengono dalla presenza Io Sono in ognuno. Quindi, l'esercizio delle tue facoltà interiori è chiamato mentale. Ma io ti dico che Dio è in azione, poiché tu non puoi formare un solo pensiero senza l'intelligenza e l'energia di Dio per ottenerlo. Dunque, la tua attività mentale è l'energia di Dio in azione. Ora vedrai, quindi, quanto facilmente è possibile produrre un corpo fisico forte e simetrico senza fare degli esercizi fisici per ottenerlo. La maggioranza degli uomini di scienza, medici o professori di educazione fisica negherà questo, ma io vi assicuro che soltanto perché non hanno compreso perfettamente l'energia e il potere che sta negando, poiché nessuna attività può essere compiuta se non attraverso l'uso dell'energia e del potere interiore. La gente permette che le sorgano dubbi e timori rispetto alle conoscenze di queste grandi facoltà che sono libere e pronte per l'uso di chi le vuole utilizzare in qualsiasi momento e se si trovano sommerse come un turracciolo mantenuto sotto l'acqua che appena lo si libera salta alla superficie. Io ti assicuro che è disdicevole che gli studenti sinceri passino tanti anni sforzandosi, sperimentando e lasciando da parte l'uso di queste facoltà e che dopo, perché non le vedono operare immediatamente, si lasciano cadere nuovamente in uno stato di inattività fino a che qualcosa li incoraggi un'altra volta per poi ricadere nuovamente. Il riconoscimento persiste e determinato di questa presenza io sono ti porterà al raggiungimento assolutamente certo di ciò che desideri a meno che tu lo abbandoni. Io vedo in questo momento un buon numero di individui che con un po' di incentivo e la semplice descrizione di queste pratiche fanno un salto nella libertà specialmente quelli che ricevono l'istruzione verbale insieme alla radiazione che l'accompagna. Non è disastroso che i figli e le figlie di Dio si sottopongono alle limitazioni quando con uno sforzo persistente e determinato potrebbero aprire la porta ed entrare in questa gran camera piena di luce, gioielli, oro e sostanze di tutti gli alimenti dell'universo. E dopo, con questa verità piena di fronte all'ora questi individui ancora vacillano per l'impossibilità di credere che possono fare il passo prendere questo scettro ed essere liberi. Amato, ti dico di nuovo canta la grande melodia della presenza conquistatrice del io sono canta nel tuo cuore continuamente sentila con tutta la tua abilità afferrati fortemente a questa determinazione la conoscenza e il sentiero di questa maestria ti si apriranno e ti manifesteranno la libertà eterna continua semplicemente a ricordarti che hai già trapassato il velo qualsiasi maestria che l'individuo abbia acquistato nei suoi affari e nel suo mondo e e sempre deve essere un ritiro sacro un santuario interiore dove nessun altro individuo inquisitore possa entrare nessuno può ottenere la maestria pretendendo di trovare questa maestria in altri cercare, trovare, applicare la legge del proprio essere sono il cammino sicuro verso la maestria e unicamente quando l'individuo lo ha raggiunto può comprendere in realtà ciò che è la vera maestria non c'è che un dominio da cercare ed è il dominio sul proprio essere esteriore puoi stare accanto a un maestro per anni e non scoprirlo fino a quando le tue facoltà interiori te lo rivellino si può abitare nella stessa casa con un maestro per anni e non saperlo fino a quando sorge una crisi e il potere reale si rivela se un maestro discutesse o rivelasse i suoi risultati dissiperebbe le sue forze e ciò non deve mai essere fatto se uno studente ha la gioia di una bella esperienza e dopo la commenta con gli altri in genere sorge tanti dubbi nei uditori e questi dubbi finiscono per riversarsi su di lui che subito incomincia a dubitare di se stesso è veramente divertente vedere quanto sono persuasivi gli argomenti degli altri lo studente che ascolta questi argomenti deve far giustizia da solo al suo io superiore e ascoltare ciò che è detto dalla sua esperienza interiore nel momento stesso in cui comincia ad entrare il dubbio se gli si permette l'entrata continuerà ad entrare in grandi quantità lo stesso accade con gli io sono se dirige a lui la tua attenzione lì si precipita l'energia amato mio non vedi che quando vuoi qualche rivelazione o ispirazione dicendo io sono quello metti in moto il potere con tutte le sue facoltà con tutte le sue sostanze ed esso assume qualsiasi forma in cui si fissa l'attenzione gli io sono è la mente insondabile di Dio nel cercare la comprensione lo studente comune sta solo mettendo in contatto la memoria di ciò che è stato invece di andare nel cuore di Dio ed estrarre quello che ancora non è stato i discepoli alcune volte non si rendono conto che ci sono state molte civiltà che hanno raggiunto grandi risultati totalmente sconosciuti oggigiorno Atlantide Lemuria e la terra di Mu sono solo frammenti di altre grandi civiltà che sono esistite per riuscire a fare cose non comuni quegli studenti che lo vogliono devono prendere la seguente decisione io sono il cuore di Dio e ora produco idee e missioni che mai sono state prodotte prima considera solo io sono quello che desidero attrare la presenza io sono e quindi il cuore di Dio si entra immediatamente nel grande silenzio nello stesso momento in cui si pronuncia io sono se tu riconosci che tu sei io sono allora qualsiasi cosa che tu desideri diventa istantaneamente manifesta credere e avere fiducia in ciò che tu credi sia la verità c'è quindi un intreccio fra la credenza e la fede all'inizio si fa la credenza se mantenuta diventa fede se tu non credi che qualcosa sia vero puoi portarlo alla manifestazione se tu non puoi credere nelle tue parole quando pronunci io sono tale o quale cosa come può stabilirsi e manifestarsi l'antico detto non c'è niente di buono né di cattivo è il pensiero che lo rende così è verità assoluta se ormai sai che l'energia divina entra nell'individuo in uno stato di purezza perfetta allora devi renderti conto che il proprio individuo colui che riqualifica l'energia imponendole la propria impurità questa energia pura di Dio è proiettata dallo sforzo cosciente dell'individuo che le deve impore qualche tipo di qualità poiché questo è il privilegio come creatore tutte le persone stanno costantemente qualificando questa energia che si versa fuori in continuazione ognuno sta impegnando il suo colore in lei tramite la propria coscienza ogni attività esterna che qualifica ha con sé la facoltà inerente al suo colore e il suo suono non c'è attività di nessun tipo che non abbia un suono e un colore inerente a lei la perfezione di Dio naturalmente non ha colorazione la colorazione appare quando la facoltà esterna qualifica ogni studente deve assumere la responsabilità della propria attività nel qualificare l'energia che invia non considerare l'elemento tempo quando affermi che qualcosa che desideri sia manifesto fallo con gioia e mantienilo fermamente fino a quando si manifesti se mantieni costante la presenza io sono mentre fai quello che tu vuoi entrerai nella pienezza e perfezione di tutto ciò che è già pronto per essere usato da te ogni risultato permanente deve essere la conseguenza dello sforzo cosciente di ogni individuo domanda che cos'è la pena risposta e mettersi in accordo con l'imperfezione non ti lasciare mai invadere dalla pena poiché è come se ti lasciassi trascinare nelle sabbie immobili pur avendo le ali per elevarti sulle alture sopra ogni cosa distruttiva al contrario eleva quello che la pena sta testimoniando e che vuole generare in te non giudicare mantieniti fermo nella presenza io sono e tutto manifesterà la perfezione per ogni condizione imperfetta che tu veda specialmente la vecchiaia di io sono la perfezione di quell'individuo che ha l'apparenza di vecchiaia così avrai messo in azione Dio dentro quello individuo poiché anche lui pronuncia gli io sono anche se lo ha detto in senso dispregiativo in ogni caso lo hai spinto a usare costruttivamente gli io sono non importa ciò che tu ascolti dire nel mondo esteriore mantieniti fermo non lasciare disviare poiché stai producendo perfezione e devi farla manifestare conscientemente se non sei attento puoi lasciare entrare un'espressione che ti perseguiterà perane se non la cancelli quando stai usando conscientemente la gran legge sai che il potere attivo del pensiero di Dio sa perfettamente la direzione verso dove va e agisce di conscientemente al tuo io sono che faccia quello che è necessario digli io sono l'intelligenza che qualifica questo con ciò che è necessario questo certamente se ti trovi nel caso di non sapere cosa fare in un dato momento l'importante è che rivolgi la tua mente verso io sono che ti guida e ti sorge per guarire io ho avuto un discepolo che aveva qualificato in tale modo il suo cerchio elettronico con il potere di guarigione che lo chiamavano l'ombra sanatrice nel momento in cui uno entrava in contatto con il suo cerchio elettronico era guarito domanda comprendendo che Dio è amore perché Dio si individualizzò risposta per avere qualcosa da amare domanda perché furono divisi i raggi risposta per esprimere l'amore l'amore è il principio attivo di Dio quando tu ami stai avvolgendo quello che ami con quel manto di Dio in quella presenza radiante non criticare mai quando ti sembra di vedere un'attività sessuale sbagliata eleva la coscienza del personaggio verso un ideale di modo che il suo pensiero entri nel controllo cosciente e così la sua attività sessuale si elevi a un piano superiore l'uso pulito e appropriato del sesso è per l'espressione dell'amore tramite la procreazione di una forma di modo che l'anima che viene possa avere un carattere e un temperamento armonioso e amoroso il pensiero e sentimento dei genitori sono l'attività modellatrice la natura del principio della vita dell'individuo e amare e qui finisce il suo discorso e inizia la benedizione infinito Dio dell'amore ti ringraziamo della tua radiazione di grazia oggi per riempire con la tua magna radiazione tutte le cose dappertutto ti lodiamo e ti ringraziamo per essere entrati nel tuo mondo dove tutto è bello dove la tua radiazione creatrice in ogni pensiero porta alla perfezione ogni cosa sostenuta dai nostri pensieri prima di concludere volevo leggervi delle note ascendendo il corpo nada ha sceso il corpo 2700 anni fa nel caso dell'ascendere i tre corpi insieme essi possono ascendere allo stesso momento o con una differenza di settimane o mesi per controllare un animale usa io sono qui e gli io sono lì ordina il silenzio oppure lo si guarda negli occhi e si conosce che l'amore di dio lo controlla la differenza tra la compassione e la pena è la seguente nella compassione si invoca la presenza io sono affinché produca la perfezione la pena è un'energia con un senso di imperfezione e intensifica solo l'imperfezione che si sta manifestando di un'energia di un'energia